Giovanni D'Agostino è universalmente riconosciuto come il pilastro degli agenti immobiliari salernitani non poteva mancare alla presentazione di quotazioni metro quadro Salerno e provincia hai avuto modo ecco di sfogliare l'ultimo nato di casa media pass le considerazioni su questa giornata per me non è l'ultimo nato quotazioni metro quadro credo che ormai sia diventata partendo da Salerno una certezza del mercato immobiliare ormai nazionale ovviamente credo che sia una pubblicazione unica nel suo genere perché creare un manuale per gli addetti ai lavori addirittura suddividendo la città di Salerno strada per strada credo che sia un lavoro che solo gli agenti immobiliari potevano fare ecco a proposito di agenti immobiliari diventa quindi sempre più importante per avere un'arma in più nella trattativa con i clienti proprio avere uno strumento del genere a disposizione ma poco fa parlavo con un collega che mi raccontava di una cliente che si era lamentata del nostro compenso io credo che nella specializzazione chi è specializzato e sempre più questi strumenti ci consentono la specializzazione ovviamente deve avere anche il suo giusto compenso e il dilettante avere compensi da dilettante